All'interno di Centro Stella Academy tu non fai solamente lezioni di yoga, sei anche inserita in un gruppo, diciamo così, no? Abbiamo creato questo pacchetto e vuoi fararcene tu? Allora diciamo che questo è quello che mi ha affascinato di questa proposta che fa Stella Academy, cioè che ogni donna ha bisogno, ha bisogno, si arricchisce di più figure che ruotano intorno a lei. Quindi mettere in uno stesso luogo più proposte, fatte sempre da professionisti del settore, quindi che permettano di fare yoga allora con me, ma poi faranno una parte creativa con Sonia, ma poi ci sarà l'osteopata, la naturopata. Quindi che una mamma venga qui, una donna incinta venga qui, si senta accolta in un cerchio di professionisti che la accompagnano. Questo secondo me è una grande ricchezza. È una grande ricchezza, un accompagnamento e anche una coccola che abbiamo voluto dare alle mamme gravidanza. Anch'io sono mamma di tre figli e ho sentito, forse lo sento più adesso, che sarebbe stato bello vivere la gravidanza in un certo modo. Quindi regalarlo alle mamme di oggi mi sembrava la cosa più bella venendo anche dalla mia esperienza. Questa parte che io porto è molto simile poi allo yoga, perché come dicevo prima, per quello le ho fatto questa domanda. Che cosa impariamo? Nulla! Nulla di nulla! Impariamo a scoprire quello che c'è già dentro di noi. Anche con me e con tutto l'aspetto creativo, che forse è uno degli aspetti che più ci consente di arrivare lì. E se volete qualche spiegazione in più di chi sia Valentina, visto che il suo curriculum è abbastanza... Vario, grande! Vario, grande, sì! Ha una grande esperienza, magari entrate nel nostro sito e curiosate! Curiosate davvero! E così vi rendete conto di chi sia e di quello che può donarci. E per oggi abbiamo finito, grazie Valentina! Grazie a voi! E allora, vi aspettiamo! Grazie a voi!